Ciao bimbi! Ciao! Siamo la maestra Angela e Filippo. Oggi ci è successa una cosa speciale, vero Filippo? Sì! Raccontacela un po'. Mentre correvo per vedere un uccellino, ho trovato un nido per terra di uccellini. Sarà stato il suo? Boh! Dove si posano gli uccellini? Nei rami degli alberi. Eccone uno che ha appena volato! Due, tre! Vi faccio una panoramica di tutti i rami degli alberi che ho qui in giardino. Chissà quanti uccellini ci sono lì? Guardate! Loro sono molto 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 laboriosi e così lavorano tutto il giorno per creare delle casette ai loro piccoli. Ecco il nido che abbiamo trovato. Siamo rimasti veramente colpiti dalla maestria e bravura degli uccellini che lo hanno costruito. Guardate! Ha raccolto tutti i tipi di ramoscelli o di fili che trovava intorno a sé. Qualcosa è simile all'erba. Qualcosa è simile a dei ramoscelli. Qualcuno più grosso, qualcuno più fino. E poi c'è questa specie di filo azzurro che non capisco bene se proviene da qualche pianta o se è qualche tipo di filo che ha trovato comunque nel giardino. Quello che ci ha colpito, vero Filippo, è che ci ha messo? Quanto tempo ci avrà messo? Dieci giorni una settimana a due. Secondo Filippo, dieci giorni una settimana a due. Allora, siamo stati così curiosi che siamo andati a vedere un video di come gli uccellini costruiscono il loro nido. Prendono filo per filo con il loro becco, ramoscello per ramoscello. E poi lo incastrano come se stessero tessendo una tela, come se fossero una sarta, oppure uno stilista, oppure qualcuno che intreccia le ceste di vimini. Mamma mia, che bravi che sono gli uccellini! E questa diventa la loro casa. Ormai, guardate, si è fatto quasi buio! Io e Filippo siamo stati fuori tutto il giorno in giardino a scoprire le bellezze e la curiosità della natura. Allora, vi diamo un invito. Da domani, quando siete nel giardino, alzate gli occhi verso tutti i rami degli alberi. Forse scoprirete anche voi un nido. Se lo trovate, mandateci una foto. Ciao! Aiutateci a condividere la magia del fanciullino con tanti, tantissimi bambini! Condividete questo video con 10 amici e iscrivetevi al nostro canale YouTube Il Fanciullino! Grazie a tutti i nostri amici e iscrivetevi al nostro canale YouTube Il Fanciullino! Grazie a tutti i nostri amici e iscrivetevi al nostro canale YouTube Il Fanciullino! Grazie a tutti i nostri amici e iscrivetevi al nostro canale YouTube Il Fanciullino!